Possiamo dire che l'intervista del prepartito ha portato bene, apriamo con una battuta, insomma è arrivata una grande vittoria, forse al di là anche delle più rose aspettative. Beh sì, una grande vittoria, una prestazione importante da parte da tutta la squadra e poi vorrei dire due parole su questi tifosi che sono una cosa incredibile, insomma sotto l'acqua hanno sostenuto la squadra per 95 minuti, quindi vanno veramente ringraziati dal primo all'ultimo. Oggi è arrivata la vittoria forse nella giornata più difficile, otto assenti, tutti pensavano ad una gara chiusa dal pronostico, qui avevano perso grandi squadre come la Virtus Centella, il Modena, il Pescara, aveva pareggiato soffrendo la Reggiana, il Teramo ha riuscito a vincere per 3-0. Sì, il Teramo ha vinto perché credo che abbia giocato insomma una gara quasi perfetta, insomma ha sbagliato pochissimo e ci sono chiaramente poi gli episodi per vincere le gare devono sempre girare nel giusto modo e quindi oggi siamo soddisfatti soprattutto perché sapevamo che eravamo in grande difficoltà. Sì, sì, insomma noi speriamo che abbia una fase positiva soprattutto perché abbiamo un tre tipo di gare prima di Natale con squadre di alta classifica se non altissima e quindi siamo soddisfatti insomma di poter partire, allenarci per bene, insomma affrontare queste tre gare, mettere, portare a casa più punti possibili per poi insomma muoverci sul girone di ritorno con tutto quello che potremmo organizzare al meglio. Beh, era doveroso, era doveroso per quello che hanno fatto i nostri tifosi, insomma vederli qui è veramente un'emozione incredibile, non hanno fatto mancare mai il sostegno alla squadra tra il primo all'ultimo minuto e quindi insomma era doveroso nei loro confronti e è successo di tutto, insomma questo mese è successo di tutto ma cerchiamo di andare avanti e pensare a un futuro importante per la società e soprattutto per la squadra e la città. Io credo che noi dobbiamo ragionare, abbiamo visto i risultati purtroppo ancora sono altalenanti quindi partita per partita, domenica torniamo al Bonolis, speriamo di vederlo pieno come è successo nell'ultima partita in casa, recuperiamo un po' di serenità societaria, staff, calciatori che chiaramente anche loro hanno vissuto una settimana a dir poco particolare per non dire altro e quindi adesso cerchiamo di fare tre punti nella prossima gara e poi magari sognare di andare a fare anche un grandissimo risultato fuori casa. Onestamente io e tutta la società abbiamo come obiettivo qualcosa di più, però ora non è che dopo una vittoria possiamo cavalcare trionfalismi, però sicuramente l'obiettivo di fine stagione noi cercheremo di alzare un pochino l'asticella e magari insomma ripeto il sogno di fare parte del gruppo alto della classifica, nel cassetto ce l'abbiamo e quindi insomma lavoreremo per arrivare a questo. Onestamente domani non credo di essere a Fiuggi, siamo concentrati oggi sulle sorti del Teramo che rispetto a un futuro prossimo chiaramente valgono per noi molto molto di più.